Ma allora, se non è una questione di i teologi e i religiosi si scagliano contro Biglino, ma il problema è messo proprio dal punto di vista logico, mi viene da domandarmi, gli accademici veri, cioè i veri ebraisti, cosa ne pensano in generale del suo lavoro e soprattutto cosa ne pensano della paleastronautica? Troveremo risposta a tutto questo dopo la sigla. Sesto video dedicato a Biglino e anche questa volta abbiamo un ospite. Per l'occasione sono proprio andato a trovarlo in Puglia e l'ho fatto anche grazie al supporto economico dei nostri Wannabe Premium, ossia un gruppo di utenti che ha deciso di sostenere i nostri progetti permettendoci di creare sempre nuovi video. Tutte le informazioni per diventare Wannabe Premium le trovate qui sotto in descrizione oppure in questo video che compare nella scheda in alto. Il titolo di questo video parla chiaro. Biglino, un ebraista risponde. Un ebraista non è un ebreo, non è un teologo, ma è una persona non religiosa che dà una risposta accademica basata unicamente sul testo. Come sicuramente tutti quelli che mi seguono sapranno e come sicuramente tutti quelli che seguono Biglino non sapranno, esistono delle università dove si può studiare appunto lingua e letteratura ebraica. Qual è quindi la posizione di un accademico che conosce il metodo di fronte agli scritti di Biglino? Preparatevi quindi a un'interessantissima intervista. Ovviamente qui mettiamo una versione sommaria e rapida, ma se volete la versione extended la trovate in questa scheda. Vai, ci teletrasportiamo in Puglia! Come avevo accennato, sono quindi andato alla ricerca di un vero studioso che ci potesse rispondere delle piccole domande. È stato davvero difficile trovarne uno e ho trovato per la maggior parte dei casi delle risposte totalmente negative. Il motivo però è molto semplice. Mi hanno detto praticamente tutti di lascia stare, che non ne valeva la pena, e addirittura c'è stato qualcuno che mi ha detto che non era proprio buono per la sua immagine accademica far accostare il suo nome a quello di B. In generale, quindi, la paleastronautica a livello accademico è considerata peggio dell'immondizia, qualcosa che non è neanche degna di essere nominata all'interno dei libri. Dopo però una serie di porte chiuse, ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare finalmente il dottor Giuseppe Cuscito. Chiaramente, questo va precisato, lui non ha a livello personale nessun interesse di parlare di Biglino, e è importante dire che comunque è responsabile di quello che dirà lui, ma non ha nulla a che vedere con tutto quello che noi abbiamo detto prima e con le conclusioni che faremo a fine video. Quindi le sue parole saranno puramente accademiche, a tutti gli effetti, riguardante la lingua ebraica. Sì, saranno obiezioni di tipo puramente tecnico, non solo per quanto riguarda la lingua ebraica, ma anche e soprattutto sul metodo con cui si conduce una ricerca, con cui poi si traggono delle conclusioni o si formulano delle ipotesi. Preparatevi quindi a una lexio magistralis. Innanzitutto la ringrazio per il tempo che ci sta dedicando, ovviamente sottraendo comunque ore alla sua ricerca, che tra l'altro poi magari ne potremo anche brevemente parlare, perché è veramente interessante. Prima di cominciare è bene far sapere un attimino al nostro pubblico qual è la sua formazione accademica e il suo background. Ho cominciato con un corso di laurea triennale, ho studiato ebraico e ramaico, ma non solo la lingua, ho studiato anche gli aspetti storici e culturali dell'ebraismo. Poi mi sono specializzato in un corso di laurea magistrale e in un dottorato di ricerca, che erano volti allo studio storico-critico delle religioni, quindi con un approccio ai testi il più possibile in lingua originale, nella loro contestualizzazione storica, e questo è fondamentale, storica e culturale, in modo da poter studiare una religione tramite i suoi testi sacri e la loro ricezione nei secoli, basandosi principalmente sul contesto storico-culturale, quindi non su speculazioni di tipo teologico o fenomenologico in genere. So che hai fatto anche delle conferenze all'estero? Sì, faccio tuttora conferenze all'estero, in cui presento i risultati della mia ricerca. In questo momento mi sto occupando di filosofia ebraica medievale, dei rapporti tra la scienza e la religione all'interno dell'ebraismo, e anche i rapporti tra la mistica ebraica e il contesto culturale non ebraico. Mi sono anche interessato da ragazzino di paleoastronautica, forse ci siamo passati un po' tutti. Ero molto affascinato dalla storia, come lo sono tuttora, e leggevo un po' di tutto, e in questo leggere di tutto mi sono imbattuto anche in libri di storia alternativa, che saranno anche da qualche parte qui nella mia libreria ancora. Finché non ho deciso poi di approfondire la questione, mi sono iscritto all'università in tarda età, però ho proseguito e vorrei proseguire la carriera accademica. Quindi ho aperto anche il blog per spiegare un po' quello che io stesso avrei voluto sentirmi dire quando ero un'autodidatta e quando leggevo questo tipo di letteratura. Tanto ho voluto sapere perché un accademico non si occupa mai di queste questioni, e non è affatto perché sono questioni scomode. La buona notizia è che la questione è molto molto più banale. Semplicemente chi scrive questi libri, almeno quasi tutti, commettono sempre degli errori metodologici da qualche parte, o qualche traduzione forzata, o delle deduzioni con dei salti logici del tutto ingiustificati, o una combinazione di tutti e due. Carenza di metodo. Esattamente. Non c'è niente da fare, cadono tutti lì. Esattamente. La differenza principale tra la storia e la pseudostoria è il metodo. C'è una parola solo, un concetto solo che uno debba ricordarsi da questa intervista, è solo una parola, metodo. Le persone tendenzialmente, ma è un errore che poi in passato ho commesso anch'io, tendono a identificare la Bibbia come se fosse unicamente un testo che si può leggere in chiave religiosa, e ancor più, dato che siamo in Italia, fortemente poi cattolicizzato. Però, da quello che ho capito, in realtà non è così. Che le sappia, esiste qualche studio accademico, o qualche studioso, o comunque qualcosa di serio e riconosciuto, che dia invece uno sguardo critico e scevro da interpretazioni teologiche? Studi critici alla Bibbia esistono da ben 400 anni. Quindi uno studio non teologico, quindi uno studio storico, critico, filologico della Bibbia, non è assolutamente un'invenzione degli ultimi anni. Prima si parlava di questa cosa importantissima, che a quanto pare è tanto sconosciuta, che è il metodo. Ora, una delle critiche che viene mossa alla paleastronautica e ai divulgatori moderni di paleastronautica è questo, chiamiamolo, metodo che loro hanno del fare finta che. A livello di ricerca accademica, o comunque a livello proprio di studio di un certo tipo, questo fare finta che, come viene visto? Come funzionerebbe? Come dicevo, se si vuole ricostruire un quadro storico, quindi ricostruire gli avvenimenti del passato, non si può prendere per orocolato ciò che è scritto in un testo, perché le ragioni che possono esserci dietro la scrittura, la stesura di quel testo, possono essere molteplici. Non si può assumere a priori che l'autore in quel momento stia raccontando un fatto realmente accaduto, perché possono esserci dietro motivi ideologici, possono esserci dietro motivi di propaganda, possono esserci dietro motivi di autocelebrazione sia di un singolo sia di un gruppo, ma faccio un esempio concreto. Ad esempio, se dovessimo fare finta che la Divina Commedia dica il vero, dovremmo quindi ammettere che esistano cani a tre teste, dovremmo ammettere che esistano traghettatori di anime, dovremmo quindi ammettere che esiste l'anima, esiste, dobbiamo andare per scontato che esiste il paradiso, il purgatorio, esiste l'inferno e dovremmo anche dare per scontato che Dio esista e che la Bibbia ne parli. Per fare un altro esempio, se applichiamo il fare finta che al testo dell'inno di Mameli dovremmo dire che l'Italia è una persona in carne e ossa che indossa l'elmo di Scipione l'africano, è un'immagine retorica e non possiamo prenderla per vera, automaticamente assumere che si stia parlando di una persona in carne ed ossa. Io me lo potrei anche traslare per dire, non lo so, a livello medico, non possiamo fare finta che un farmaco funzioni o non funzioni e non possiamo fare finta che i test hanno dato dei risultati. Immagino che si chiamano scienze delle religioni proprio perché comunque la parte scientifica della ricerca nel metodo viene mantenuta così proprio come è fatto anche poi nella ricerca del testo. Senz'altro il tuo esempio è stato molto calzante perché come ha dimostrato un grande storico, Carlo Ginzburg, i metodi della ricerca storica sono spesso assimilabili ai metodi della diagnostica nella medicina. Quando ho fatto delle mie ricerche personali su Biglino, non stiamo qui parlando di Biglino nello specifico, però serve come introduzione perché nelle mie ricerche di Biglino ho trovato spesso parlare di testo masoretico e di presunti errori di trascrizione. C'è quindi una tesi che a me ha lasciato molto perplesso che è una sorta di complotto che vede nascondere una serie di verità appunto gli dèi o gli alieni che siano poi in carne ed ossa fatta proprio ad opera degli ebrei in maniera consapevole. E cos'è questo testo masoretico e ci sono davvero degli errori di trascrizione? Innanzitutto il termine masoretico deriva dall'ebraico masoret che vuol dire tradizione. È stato così come lo conosciamo noi le Bibbie a stampa sono quasi tutte basate sul cosiddetto codice di Leningrado oggi ovviamente San Pietroburgo. Il testo masoretico contiene sì delle varianti rispetto ad esempio alla traduzione greca dei 70 che fu fatta circa 2000 anni fa. In alcuni casi ci sono state delle modifiche deliberate però sono casi isolati e soprattutto il fatto stesso che esistano delle varianti può sembrare controintuitivo ma un filologo sa che il fatto stesso che esistano delle varianti vuol dire che non c'è stata una manipolazione sistematica di quel testo perché se ci fosse stata fatta a tavolino con un'intenzione ben precisa dietro noi non avremmo le varianti non avremmo neanche più traccia se avessero voluto far sparire qualche dettaglio scomodo noi sarebbe già sparito noi non ne avremmo inoltre non è vero che della Bibbia non sappiamo niente noi tramite il metodo storico critico possiamo avere un quadro abbastanza preciso dell'ambiente storico e culturale che ha prodotto i vari testi biblici i vari brani biblici ovviamente non sappiamo tutto ma da lì a dire che non sappiamo niente semplicemente non è vero e allora perché sempre facendo ricerche in quel settore trovo spesso gente dire che invece certe cose non si sanno o addirittura non vogliono farcelo sapere allora sul perché non si sanno mi verrebbe da rispondere parla per te nel senso perché ad esempio il volume sull'ebraismo della collana di storia delle religioni edita da Giovanni Filoramo parla esplicitamente della Bibbia e del contesto storico in cui diversi testi biblici sono stati scritti e viene detto chiaramente che vi sono residui di politeismo nella stessa Bibbia questo testo è uscito in edizioni in circolazione ormai da credo una ventina d'anni è uscito in diverse edizioni tra cui anche in edizione economica è uscito in abbinamento in almeno un paio di quotidiani che io sappia se non di più nel frattempo quindi non è affatto un segreto che viene tenuto custodito gelosamente comunque basta cercare su un motore di ricerca qualsiasi Bibbia studio critico e già appaiono pagine su Wikipedia appaiono siti blog mi viene molto da obiettare che se c'è qualcuno che non vuole farci sapere queste cose non ci sta riuscendo non sta facendo per niente un buon lavoro perché sono cose che si sanno alla luce del sole prima accennavo al fatto che gli studi storico-critici della Bibbia esistono dal XVII secolo sono cose che si sanno e sono alla luce del sole avendo fatto il liceo classico io mi ricordo che facevo le traduzioni di greco e latino e usavo il gi oppure il rocci sicuramente ci saranno anche dei vocabolari per l'ebraico però nello specifico analizzando un po' i testi di paleostronautica in particolar modo appunto anche quelli diciamo moderni di Biglino saltano sempre fuori una serie di vocaboli che vengono interpretati poi si dice letterale ma sono chiare interpretazioni secondo me che sono le parole di Ruach Kavod Leolam Ezelem da vocabolario queste parole cosa vogliono dire? Ruach vuol dire sia vento ma anche spirito perché il respiro è un piccolo vento nel microcosmo del corpo umano e il doppio significato questo doppio significato esiste anche in arabo c'è l'equivalente nell'arabo Ruach che anche in questo caso vuol dire sia vento sia spirito quindi un'eventuale aggiunta teologica del concetto di spirito nella Bibbia è un'ipotesi che non ha nessuna credibilità perché allora bisognerebbe immaginare questi presunti teologi ebrei che avrebbero addirittura modificato i dizionari di arabo ma non avrebbero fatto sparire le prove del politeismo nella Bibbia che hanno sotto gli occhi da millenni in ogni caso di questo Ruach non è mai data una descrizione fisica non è mai detto questo Ruach era rettangolare era ovale era a forma di disco stesso discorso con Kavod vengono descritti gli effetti se la traduzione come Gloria può suonare poco credibile alle nostre orecchie questo dipende dal fatto che si sta parlando si sta esprimendo un concetto che potrebbe essere anche del tutto estraneo alla nostra cultura quindi la traduzione che più si avvicina è quella di Gloria chiaro che ci sono dei passi della Bibbia in cui il concetto di Gloria non si adatta bene alla nostra idea che abbiamo di Gloria ma non è affatto detto che la nostra idea di Gloria sia quella universale valida per tutti quindi se una parola che si riferisce alla Gloria in un'altra cultura non si conforma alle nostre aspettative allora non parlava di Gloria lo stesso discorso vale con Selem il termine Selem se questo Selem da qualche parte fosse descritto esplicitamente come qualcosa di microscopico a doppia elica allora il dubbio che si parli di DNA verrebbe anche a me però visto che vuol dire statua o comunque immagine immagine scolpita o statua questa traduzione che è quella comunemente accettata basta è già sufficiente a comprendere il testo così com'è per la questione Leo Lam che significhi o non significhi eternità è una questione di battuta io non la darei per scontata non liquiderei la questione come non significa mai eternità perché è vero che ci sono alcuni dizionari che non lo traducono come eternità ma ce ne sono altri che invece lo fanno in ogni caso anche se Leo Lam non dovesse dire eternità ma semplicemente lungo tempo indefinito c'è comunque un suo sinonimo che vuol dire per sempre quindi affermare che non vi sia eternità nella Bibbia è una conclusione abbastanza forzata bisogna inoltre ipotizzare che quelle traduzioni valgano solo lì ma bisognerebbe dimostrare perché quelle traduzioni sono valide solo lì perché quei termini significano tutt'altro in qualsiasi altro testo in qualsiasi altro brano ma solo in quel punto devono significare quella cosa lì la principale prova e questo termine a me fa molto sorridere se non proprio cadere dalla sedia per quanto rido che i sostenitori della paleoastronautica portano è la famosa visione del Carlo di Ezechiele loro dicono che si tratta di una vera astronave e addirittura io ho letto che i cherubini siano ingranaggi e ci può fare chiarezza sì qui bisogna scegliere se leggere il testo alla lettera o se interpretarlo in senso paleoastronautico non si può avere tutte e due perché se si legge il testo alla lettera bisogna fare i conti col fatto che il testo parla di figure che avevano dei quattro volti di animali avevano degli zoccoli di bovini avevano delle ali quindi questo è quello che dice il testo se uno lo legge letterale se si vuole vedere un disco volante come è stato fatto ad esempio già da credo già da Agrest ma da Von Däniken a Blumrich se si vuole vedere dei macchinari quindi delle eliche si sta tradendo il testo si sta assumendo a priori che l'autore volesse dire altro rispetto a quello che ha scritto ma lo si sta assumendo a priori o ci si attiene al testo e si deve fare i conti col fatto che il testo parla di esseri di animali e li chiama più volte ripetutamente Hayot cioè animali esseri viventi non si può poi assumere che in realtà il testo stia parlando di macchinari ancora una volta metodologicamente non puoi dire qui c'è scritto così però questo termine in realtà significa cosa se lo applichi a qualsiasi altro termine se tu mi dici buongiorno io posso dire ah no ma tu con buongiorno volevi insultarmi allora ti do un pugno ma non certo la fattoria degli animali di Orwell diventerebbe la fattoria degli ingranaggi in questo caso esatto certo mi sembra ovvio esatto e se soprattutto se traducemo fattoria con factory viene fuori che è una fabbrica di ingranaggi questo è il modo di procedere della paleo della pseudoscienza in genere il problema appunto questo solleva una questione di fondo che la paleoastronautica è voler credere in qualcosa è voler interpretare i testi in funzione di quella cosa che si è decisi di credere è nata di fatto così con l'opera di Carl Sagan e Josef Shklovsky due astrofisici Carl Sagan l'astrofisico professore di Neil deGrasse Tyson sì quel Carl Sagan ha dedicato la sua vita quel Carl Sagan quel il divulgatore era un astrofisico è stato uno dei principali proponitori della paleoastronautica ma ci credeva? in seguito si è tornato indietro sulle sue ipotesi però lui ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca nella vita su altri pianeti negli anni 60 l'esplosione della paleoastronautica è legata ai cittadini dell'unione sovietica il coautore di Carl Sagan uno dei due autori del mattino dei maghi che hanno Paul et Berger esatto Jacques Berger Berger non Berger Jacques Berger Berger è il nome francesizzato di Jacob Berger cittadino sovietico che è scappato in Francia sono stati proprio gli autori del mattino dei maghi a creare la polemica e la distinzione prima di tutto e poi la polemica tra scienza ufficiale e la loro che noi possiamo definire pseudoscienza che loro chiamavano realismo magico il problema è quando c'è dietro un interesse economico quando queste persone non sono spinte davvero a amore della ricerca o magari all'inizio lo erano ma poi hanno trovato un modo per trarre lucro io mi sono accorto che a volte alcuni personaggi non possono fare nomi iniziano che credono nella loro cosa poi piano piano effettivamente cominciano a mettere in dubbio ma si trovano incastrate in quella situazione in cui non possono più ritrattare perché si sono esposti in un certo qual modo e quindi se adesso facciamo l'esempio banale di Biglino anche se lo dubito se domani Biglino dicesse o capisse di aver totalmente cannato interamente una certa cosa io la vedo difficile che poi arrivi a dire no guardate ho sbagliato tutto perché ha troppo imballo guarda il caso di Biglino io non lo conosco di persona in generale però in generale guarda lo so l'ho visto studiando la storia della paleostronautica stavolta da storico quindi vedere le idee tra l'altro mi piace usare anche nella mia ricerca accademica l'approccio della storia delle idee vedere come le idee continuano a essere propagate trasmesse nonostante siano state già dimostrate come sbagliate faccio l'esempio del sigillo VA243 ma ne potrei fare a migliaia tipo oppure come l'episodio come il cosiddetto cubo di non so se si pronunci GURLT comunque scritto G-U-R-L-T che gli autori del mattino dei maghi presentavano come una ricetrasmettente aliena me la ricordo me la ricordo non è affatto un cubo loro avevano letto questo racconto di Lovecraft in cui si parlava di questa ricetrasmettente aliena hanno trovato questo artefatto questo meteorite questo pezzo di ferro meteorico è diventato un cubo è diventato un cubo in realtà ha la forma più o meno di una noce quindi non è neanche lontanamente e qual è il problema tu non vedrai mai un paleoastronautico dire ah questo era sbagliato ultima domanda se ti chiedessimo in futuro di fare un video su Donnolo cosa ci risponderesti? Shabetai Donnolo è un personaggio di cui mi sto occupando diciamolo al pubblico è un medico astronomo ebreo vissuto in Puglia cioè vissuto in Italia meridionale nel decimo secolo mi sto occupando di lui e delle sue fonti astronomiche ormai da anni quindi ti direi facciamolo molto volentieri si conclude così l'intervento col dottor Cuscito che ricordo è solo un estratto e potete guardare integralmente qui ovviamente noi lo ringraziamo di cuore per aver accettato questa intervista perché grazie a lui abbiamo avuto la possibilità di mostrare a tutti quanti come lavora un vero ricercatore se avete qualche domanda scrivetela pure qua sotto e quelle più interessanti le gireremo direttamente a lui approfittatene perché è davvero un pozzo di scienza e a tal proposito vi rimando anche alle sue piattaforme social potete infatti trovarlo sia su facebook che in un blog chiamato Cuscito Ergo Sum seguite assolutamente la sua pagina e il suo blog vi lascio un link in descrizione ma prima di passare al prossimo video condividete questa bellissima intervista sotto le bacheche di Biglino e dei Biglignani così che capiscano la differenza fra una persona che per anni mi ha sbattuto la testa sui libri in università superando gli esami ed un autodidatta che si è fatto 20-25 lezioni nel prossimo video le conclusioni è una piccola premonizione magari anche a noi gli alieni ci hanno dato qualche potere speciale non si sa mai